Buon Dio, sono associato la maniera qui, e io ero al ginnasio a attivarmi qui. Vale? Io ero al ginnasio e a attivarmi. E' il dia 24 ore con filo. A me che c***o ha questo filo? E' vero, hai schiarato. Hai saputo che è un gran lavoratore, un gran uomo. Aspettiamo a Dio. Vabbè, 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 vabbè. E' il tabbo motore. Vabbè, vabbè. Grazie a tutti. 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 Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Tu vuoi vivere alla moda, ma se vedi, whisky e soda. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, americano. Ora, come si può fare l'americano. Tutto io, tu vuoi fare l'americano. E' a tutti. Buon dia, Giuseppe. Buon dia, Giuseppe. Buon dia. Buon dia, tu vuoi fare l'americano, americano, 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 americano. Fare l'americano, americano, 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 desempen, rij重are al kitchen, jak everetics. Mi ha comprato una scommissione di massa a me, quindi una mala ostia. Sono venuto a tomare il caffè Damian. Buongiorno. Buongiorno signorina, tutto bene? Parla italiano eh. Fa un buon caffè, un caffè ristretto grazie. Ma che brava, che brava. Ma che rapida. Ah ma che bel caffè, brava eh. Ah ma... Ora si. Ora si comienza il dia. He salito dal banco e come sempre non ho soluzionato nada. Vamo al trabajo, doy un vistazo. Vamo sentaremo a comer, algo. E poi a lavorare. E poi a lavorare. Bueno, abbiamo arrivato. Ora miro se lo hanno fatto tutto. Staff! Avevi fatto tutto? Vieni a tomarlo col culo! Questo è mio staff. E' affamato. Vieni a tomarlo col culo. Ti ha preparato tutto eh. Molto bene. Vieni a tomarlo. Poi di averlo posto a la nevera, sto chiedi poi Allora, sta putta comita, llega o no? Cagolo la puta Va, finiamo sta cazzo partita, devo comere Va, lo comiamo, va Va, cavolo sta partita Faltano 10 minuti per aprire E io sta andando po' le c***o C'è una porta serrata, non è entrata la ventana Faltano 5 minuti per l'apertura 5 minuti di relax, è mia amica 5 minuti, quel dia è largo 5 minuti di relax Pino, la pizzeria sta piena, spavina Una porca puttana Ma caloschia Va, a currar va Stavo durmiendo Tu vuoi fare l'americano, americano, americano Tu vuoi vivere alla moda Masse, baby, whisky e soda Molto 2 minuti di relax S'accavò al mediodio, ora voy a casa, pongo una lavadora, puta lavadora, me hago la siesta un'horita, limpio un poquito, ducho e a volver a trabajar con un gilipaglia di. Bueno, nos veremo despues eh, ciao! Sono le 7.15, già è vuelto a currar, encendiamo il horno vale, e descansiamo, dove ho più polvo che prima, vale, e mi sperano 70 pizze per arrivare e 70 persone qui, vale? Suerte che ho il gilipaglia di amico che mi ha una mano, vale? Ora sto preparando, perché al mediodia con io sto preparando, sto cortando il cortoio al salame, mira, salame, no peperoni! Se lo cortavo io a este mediodia... E' dato un po' più! La massa è fermentata, perfetto, già sta! Travacarmi, cavolo della puta! Un'ora a palco! Ora mi sento tío, mi tomare una coca cola zero e descansare 10 minuti e poi a currare, ok? Sì, già sapete che la mia vita... Io sono il primo gilipaglia youtuber che lavora, ricordatevi eh! Quando arrivo a un milione di suscrittori, vedo la pizzeria e vedo un po' di culo, non è solo un video, oggi è l'ultimo dia di lavoro, sto molto felice, perché mi voglio di vacazione, mi voglio 10 di a descansare, in plan a meditare, alla social media ho tutto il ristorante pieno, alle 10 e meia del secondo turno lo tengo pieno, ho tutta la pizza per arrivare, che sono quasi 60 pizzas, e io stai a non gravare, tosto lo uovo di gravazione, ok? Stattarde non gravare, gravi quando arriviamo di lavorare, gravi, bene? Paragliare, come che in una camera mi cavo la puta con questa puta camera la tiro nel suolo, non mi fate incazzare, non mi fate incazzare! Ah, stanotte è qui dove? Oh porculo, io sto andando porculo qua a te! Brondo! Ma ho contestato perché eri tu amore mio! Che cazzo vuoi? Ah beh, in Barcellona hai mille pizzeria, perchè vieni a dare porro il culo qui? Oh calma eh, ti ripoglio! Oh, a me non mi espo il culo che mi cago la puta e ti mando a tomar porculo! Vabbè, a freddita di merda, che cazzo ha fatto? Se ti ha dato il suolo? Che cazzo ha fatto? Poi vas a com'armi, no? Dio a puta, io sto lavorando di mio! Guarda che pierna! Ufff! Questo è per colesterolo o va bene? Vabbè? 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 inizare il postere, inizare un like, seguiremo, per la calle no, vale? In Instagram, in Twitter, in Cazzo Touanoa. Lo sto in una m***a perché sono... Sono le 11.30. Io plego anche. La pizzeria sigue abierta. La pizzeria sta limpiando, ora. Ma voglio a casa, come avete visto io da le 7.30 a la manana. Lo sto in una m***a. ciao